Donare il proprio sangue e sapere che serve, siamo a disposizione. Furono tra i primi ad arrivare ad Amatrice quel 24 agosto del 2016. Oggi i poliziotti e i vigili del fuoco di Rieti sono tornati per donare il sangue in memoria delle vittime del terremoto. È un piacere, è un dovere, sì. Il nostro progetto è dal sangue versato al sangue donato. Vogliamo gettare un seme di speranza, di rinascita, attraverso la donazione del sangue. Abbiamo accolto veramente con piacere questa iniziativa della Polizia di Stato. La visita di Amatrice, come si vede anche dalla maglietta, ha compiuto 45 anni. È una bella realtà. Un gesto di generosità che rappresenta un legame fortissimo tra il territorio, la popolazione e le forze dell'ordine. Ci siamo e ci saremo sempre, spiegano il questore di Rieti Fabozzi e il comandante regionale dei vigili del fuoco Aquilino. Donare il sangue vuol dire speranza, dice il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. Quest'iniziativa vuole simboleggiare una nuova vita, la rinascita anche per Amatrice, che speriamo venga presto. Senza speriamo, sicuramente avverrà presto e avremo una nuova vita anche noi. Solidarietà e arte, svelata l'opera che rappresenta la frattura della terra, dove ci sono però anche le radici della rinascita. In memoria delle vittime del sisma, con particolare dedica a Marco, 28 anni, figlio del prefetto di Trento, Filippo Santarelli, originario di Amatrice. Era uno chef, un ragazzo nel pieno della vita e purtroppo è successo la tragedia e quindi... Ma guardare avanti è una necessità e allora, al via oggi e fino a domani, la sagra degli spaghetti alla Amatriciana. Per noi è assolutamente un simbolo di rinascita, è una comunità che ha bisogno che la gente venga qui e assaggi la nostra Amatriciana.